Buongiorno, mi chiamo Andrea Ferrero e sono un chirurgo ortopedico. Dopo aver aperto un sito internet e un canale YouTube, ho deciso di fare un video un po' diverso dai precedenti, che cercavano invece di spiegare il tipo di intervento chirurgico proposto ai pazienti. Come tutti i medici, ovviamente mi trovo molto spesso pazienti che giungono da me per la prima volta, che non conosco e di cui quindi non ho alcuna informazione. Partendo quindi da zero, devo cercare di ricostruirne la storia clinica. Come specialista in un determinato settore, quello della chirurgia ortopedica, i pazienti si aspettano che risolva un problema specifico, che può essere l'alluce valgo piuttosto che un'artrosi di ginocchio o dell'anca. Questo non vuol dire ovviamente che non debba conoscere gli altri problemi di salute del paziente. In altre parole, è importante escludere eventuali problematiche che potrebbero ritardare la guarigione o addirittura controindicare un'operazione, per un elevato rischio e possibili complicanze. Per aiutare il vostro medico ad offrirvi il miglior trattamento possibile, è fondamentale dargli un quadro preciso del vostro stato di salute e del disturbo che, più nello specifico, vi porta da lui. Desidero quindi dividere questo video in due parti. Nella prima parte vi descriverò in modo riassuntivo quali informazioni fornire al vostro medico, per farsi un'idea della vostra condizione generale di salute, mentre nella seconda parte vi spiegherò brevemente come riassumere in modo chiaro il disturbo che vi affligge. In generale, il mio consiglio è quello di prepararvi qualche giorno prima la visita, scrivendo su un foglio di carta tutte le informazioni utili e che andrò adesso ad elencarvi. Il primo dato importante è l'elenco di tutti gli interventi chirurgici che avete subito nel corso della vostra vita, possibilmente specificandone anche l'anno. È fondamentale preparare anche una lista dei medicamenti che prendete, in particolare gli anticoagulanti o gli antiaggreganti, cioè le medicine che rendono il sangue più liquido. Per aiutarvi a compilare questa lista dei medicamenti potete ovviamente rivolgervi al vostro medico curante oppure al vostro farmacista, che dovrebbe avere una lista aggiornata dei medicamenti che assumete. È importante fare subito presente al vostro medico se avete il diabete o se comunque prendete dei medicamenti per tenerlo sotto controllo. Il diabete infatti implica una serie di rischi e di complicanze aumentate dopo ogni intervento chirurgico. Fate sempre presente se siete seguiti da un reumatologo e nel caso per quale problematica. Inoltre è molto importante riferire se fumate. Infatti, soprattutto i forti fumatori, sono a maggior rischio di complicanze legate alla difficoltà di cicatrizzazione della ferita e quindi a un rischio aumentato di infezione. Oppure un aumentato rischio nella non corretta guarigione dell'osso, che quindi potrebbe metterci più tempo del necessario. Un altro aspetto fondamentale sono le allergie. Le allergie che più interessano il vostro chirurgo sono non solo quelle alle medicine, ma anche, notate bene, al lattice oppure ai metalli come il nickel, poiché nella chirurgia ortopedica si usano molti materiali metallici, alcuni dei quali possono contenere questo elemento, come ad esempio le protesi di anca o di ginocchio. Per quanto riguarda il lattice, è importante saperlo in anticipo, in quanto dovrà essere organizzata una sala operatoria cosiddetta latex free, in cui cioè non ci sia la presenza di questo materiale che è invece comunemente presente in tutta la sala operatoria, a partire ad esempio dai guanti chirurgici. Un altro aspetto purtroppo non sempre discusso è la presenza di uno stato ansioso o addirittura di un vero e proprio stato depressivo, perché questo potrebbe amplificare la percezione del dolore dopo l'intervento, rendendovi quindi più difficile una rapida ripresa. Si tratta purtroppo di una problematica che molte persone fanno difficoltà ad affrontare e che spesso provoca imbarazzo a parlarne. È molto importante parlarne subito con il vostro medico che potrebbe decidere di chiedere una consulenza specialistica con lo scopo eventualmente di darvi un supporto oppure anche una terapia farmacologica adeguata prima ancora di organizzare una operazione chirurgica. Una volta chiariti tutti questi aspetti della vostra salute generale, si potrà discutere del problema per cui vi incontrate. Anche in questo caso il mio consiglio è quello di scrivere su un foglio di carta in modo ordinato le risposte alle seguenti domande. Dove avete male? Quando avete iniziato ad avere male? Il dolore è iniziato dopo un trauma oppure si è presentato spontaneamente? Il dolore tende a interessare la stessa zona oppure cambia posizione? Che voto dareste al vostro dolore in una scala da 0 a 10? Il dolore si accompagna ad altri problemi come gonfiore, senso di poca stabilità, scosse elettriche, cambiamenti del colore della pelle localmente? Avete la sensazione che il dolore stia migliorando oppure stabile o addirittura sta peggiorando? Avete provato degli antidolorifici? In caso affermativo quali? E hanno portato beneficio e se sì per quanto tempo? Avete già fatto delle sedute di fisioterapia? Avete già eseguito degli esami come ad esempio una radiografia oppure una risonanza magnetica? Al termine della visita è possibile che vi sia proposto un intervento chirurgico. L'intervento chirurgico implica ovviamente un periodo di tempo per la guarigione variabile dalle due settimane a diversi mesi prima di poter riprendere le vostre attività lavorative o sportive. Nel frattempo potreste aver bisogno di un aiuto da parte di familiari e amici per fare la spesa, pulire casa, stirare o anche solo per guidare l'auto il che ovviamente vi limiterà molto nelle capacità di mobilizzarvi. Ci sono naturalmente dei servizi per gli aiuti domiciliari che possono essere attivati. Però è bene pensarci prima di fare l'operazione in modo che una volta rientrati a casa vostra tutto sia perfettamente organizzato. Naturalmente è bene capire il contesto familiare per valutare se dopo l'intervento potete realmente tornare a casa o se magari perché vivete da soli sarà necessario un periodo di ricovero in una struttura protetta con del personale quindi che vi aiuti alla mobilizzazione. Se pensate che questo video possa esservi utile o se pensate che possa esserlo a qualcun altro vi invito a mettere mi piace e iscrivervi al canale per permettere a questi video di essere divulgati più facilmente. Grazie